Buongiorno a tutti, ho sentito parlare di metaverso e insomma da Veneto versare è sempre positivo, però metà mi sembra sempre poco e cioè preferirei il pieno verso, quindi adesso vado a... metterò il marchio su questo nome, allora aspetta che prendo il... per andare avanti è questo qua, immagino. Hamosaji, conoscete? Forse avete letto il giornale stamattina, no? Per più di 60 anni non si era lavato, pensate? Aveva 94 anni e pochi mesi fa quelli del suo villaggio l'hanno... ci hanno detto dai dopo 60 anni l'ora ti fai una doccia, cosa è successo? È morto. Shock, vittima di uno shock, per 60 anni aveva vissuto benissimo, fumava quattro sigarette contemporaneamente, lui non fumava una sigaretta, guardate le foto, ne fumava quattro, nella pipa fumava escrementi di animale, insomma vabbè, personaggio sicuramente inavvicinabile, però lui era vivo finché non si è lavato, e poi a un certo punto è successa una cosa che gli hanno chiesto di fare, inaspettata, e questo shock gli ha cambiato la vita, ovviamente, cioè, non nascondiamo il fatto che aveva 94 anni, quindi pace l'anima sua, probabilmente non è morto per il bagno, però, insomma, a me ha fatto un po' sorridere questa cosa, ma perché vi parlo di shock? Perché in realtà ci eravamo appena liberati dalla pandemia, ci eravamo appena inebriati di bonus, e cosa arriva? Arrivano tutti questi cambiamenti, tutti questi shock, uno dietro l'altro, rispetto all'ultimo intervento di Fiorentini, 19 shock normativi, cioè, fanno la legge sul 110 e poi per 19 volte intervengono, in un anno e mezzo, cioè, è paradossale, no? Allora, siamo qua a chiederci cosa sarà il futuro, guardiamo le stelle, guardiamo i pianeti, no? E diciamo, boh, come sarà questo futuro? Ecco, il 4 luglio del 2020, quindi eravamo in pandemia, è successa una cosa molto particolare, che accade raramente, una cosa che non ha alcun senso dal punto di vista astronomico, no? Cioè, i pianeti si sono tutti allineati, erano tutti in linea, che cosa vuol dire questo? In realtà, dal punto di vista astronomico, assolutamente nulla, dal punto di vista, insomma, scientifico, eccetera, ma dal punto di vista ideale, è interessante perché è lo stesso punto di partenza per tutti. Il 2020 è stato un po' così, in effetti, no? Il nostro sistema solare è composto da una serie di pianeti, e qua li vedete elencati, la ripresa economica post-pandemica, l'effetto superbonus, tutte le cose di cui abbiamo già sentito alcuni accenni, non le leggo, no? Aggiungerei depositi bancari delle famiglie, perché siamo a livelli di... cioè, se azzerassimo i depositi bancari delle famiglie, annulleremo il debito dello Stato. Ovviamente non si fa, non si può fare, però c'è una liquidità che in questo momento è, diciamo, in Veneto si dice, Gai Scarsè è così, è col filo spinato, no? Oppure Gai Gransin Scarsè, cioè abbiamo i soldi in tasca, ma non andiamo a prenderli, no? Ecco, allora, questo sistema solare però è in questo momento colpito da una serie di tempeste. Alcune le abbiamo conosciute nella prima fase della crisi, diciamo, pandemica, norme del governo contraddittorie, sono stato gentile in questa frase, però certamente l'elemento inflazionistico del quale abbiamo già sentito, poi sicuramente Alberto Bubbio entrerà più nel dettaglio. Lo scenario di guerra, i costi energetici, nessuno avrebbe pensato che sarebbero schizzati alle stelle. Adesso però, se andiamo a vedere la curva del gas, proprio ieri l'abbiamo vista, è crollata, no? Cioè, è stato detto anche prima. Quindi siamo di fronte a degli shock che non sono più shock annuali, eccetera. Nel passato eravamo abituati a fare queste previsioni e è stato detto anche prima, no? Che facciamo una previsione, questa previsione per l'anno successivo era più o meno valida e sapevamo che qui i dati... Ma eravamo in un meccanismo di economia lineare, di processi lineari che erano facili da leggere. Oggi in realtà siamo nella non linearità, perché noi nel mercato edile, in qualsiasi mercato, in modo particolare in quello delle costruzioni, eccetera, nel vostro mercato, a un certo punto arriva che scoppia la guerra in Ucraina e vi crolla il mercato. Adesso esagero però, perché non è stato proprio così. Cosa vuol dire? Che un fenomeno lontano, uno shock, colpisce in modo inaspettato. Il primo shock di questa cosa che ci ha fatto cambiare e ci deve far cambiare il modo di pensare è stata proprio la pandemia. Cioè un'emergenza sanitaria è diventata un'emergenza economica. Mai era successo, l'avevo già detto l'anno scorso, no? Allora, quali sono le prospettive in questo senso? E qua chiaramente dobbiamo andare ad analizzare un po' i dati, i numeri. Questi sono i dati pubblicati ieri dal Fondo Monetario Internazionale, sull'andamento delle economie complessive a livello mondiale. Noi siamo lì al centro di questo, vedete, si riduce un po' la crescita, si riduce abbastanza significativamente nel 2023, ma per quanto riguarda l'area euro, come potete vedere nel grafichetto rosso, si riduce in modo più significativo. E l'Italia? L'Italia è lentissima in questo 2023, secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale. Meno 0,2. Venivamo da un più 6,7%, 6,6, 6,7 insomma, del 2021, più 3,2% nel 2022, meno 0,2 nel 2023. Adesso mentalmente ognuno di voi faccia il suo conto, perché questo è il PIL, faccia il suo conto sull'andamento del suo fatturato in quei tre anni. Il delta che avete avuto su quegli anni. Perché questo è un dato che mi serve, toipo, per farvi vedere un numero che poi vi mostrerò. Chiaro che non sciocca anche questo, no? Cioè, meno 0,2. Vuol dire che ci stiamo proprio piantando, ci stiamo bloccando. Ecco, dall'Italia che per la prima volta era in prima fila e correva più degli altri, torniamo in teoria a essere il paese che correrà un po' meno. Queste sono le previsioni della Commissione europea nel forecast di quest'estate. Adesso usciranno quelle autunnali, vedranno se saranno ridotte, sicuramente l'Italia scenderà a 0,5 probabilmente. Ancora non c'è il segno meno, ma l'altro dato importante è questo. Cioè, l'inflazione è tornata ad essere un fattore importante e determinante anche per alcune scelte che le banche dovranno fare e sulle quali bisogna stare un po' attenti, perché chiaramente un innalzamento dei tassi di interesse potrebbe essere negativo in questo momento se solo messo in atto per contrastare l'elemento inflattivo. Però qua, questo elemento, perché è uno shock? Perché non eravamo più abituati? E poi vi mostrerò un altro grafico che darà una mano in questo senso. Abbiamo un sentiment economico, l'indicatore europeo sul sentiment delle imprese che vede complessivamente una frenata in questo momento complessiva del giudizio su come andrà l'economia. Ma è chiaro che di fronte a tutti questi shock la sensazione è questa. Poi se andiamo a vedere i numeri, in realtà, come vedremo, sono un po' diversi, sono completamente diversi. Allora, questi sono i numeri della produzione delle costruzioni. Vediamo l'Italia contro l'Europa. Questi sono i dati europei. Guardate, settembre 2021, agosto 2022. Partiamo da un più 2,3%, ogni mese vale sul mese dell'anno precedente, quindi anno su anno. Ok, guardate, gennaio 2022 più 8,9, febbraio più 4,3, marzo più 3,5, più 3,3, fino ad agosto 2,8. E l'Italia come si colloca? Sapete che di solito noi eravamo sempre quelli del... L'Italia è questa roba qua. L'Italia è questa roba qua. Quindi ci sono dei driver, in questo momento, in questo paese, che sono completamente diversi rispetto a quella linearità della quale parlavo prima, rispetto ai temi dello sviluppo del settore delle costruzioni. Perché abbiamo dei driver particolari, certamente quegli elementi che abbiamo visto prima sono già stati citati, poi vi però vi faccio vedere qualche dato sul tema del super bonus. Ma qui vedete che in realtà abbiamo un'accelerazione a due cifre, mese per mese, sull'anno precedente, che è un'accelerazione rilevantissima, perché è un'accelerazione che arriva in un anno, sul 2021, che era già un anno che aveva recuperato tantissimo. È chiaro che sono due anni eccezionali, che non possiamo pensare che sia la normalità. Questo lo sappiamo tutti. Però se uno dovesse dirmi, guarda, c'è un trampolino, usa questo trampolino a fare un tuffo. Se poi mi dice, guarda, se sei così bravo, ti do due trampolini, ma che salti posso fare da questo punto di vista? Eccezionali sicuramente. Allora anche questo è un elemento, uno shock, perché è una novità. È qualcosa che forse facciamo fatica a capire e anche a gestire. Perché la crisi non è solo nei momenti negativi, ma la crisi potrebbe venire da eccesso di crescita. Perché io cresco, mi esplode l'azienda, e meno male, no? Però non riesco a capire, perché io sono strutturato anche mentalmente, alla mia organizzazione precedente, non un'organizzazione che in due anni magari mi ha portato a, magari non raddoppiare, ma in molti casi quasi a raddoppiare il fatturato. Certo, se faccio un milione, ne faccio due, tutto sommato reggo, ma se ne facevo, adesso, cento e ne faccio duecento, magari non è così, però ho un altro paio di maniche, eh? Allora, questi sono i numeri del 2021. Guardate, PIL più 6,6, investimenti in costruzione più 21,4, sono i numeri certificati di Istat, con gli investimenti fissi e lordi più 15,8. Questa crescita rilevantissima ci deve far pensare che se il PIL cresce, le costruzioni non gli vanno dietro tanto quanto, ma crescono di più. Forse si è innestato un meccanismo, finalmente, nel quale, ricordate il vecchio refreno, le costruzioni tirano l'economia, eccetera, sicuramente questo è vero perché è stato calcolato che, diciamo, le costruzioni del 2021 hanno dato un apporto di un terzo alla crescita del PIL. Vuol dire che se le costruzioni sono cresciute così tanto e hanno apportato un terzo a quel 6,6%, vuol dire che da qualche altra parte abbiamo perso. E quindi vuol dire però anche che le costruzioni forse hanno innestato nel loro sistema dei nuovi meccanismi di produttività che un tempo non c'erano, che è il nostro punto debole, ne ho parlato spesso, anche l'ultima volta ci siamo visti, e qui non lo ripeto. Allora, dopo tutta questa ubriacatura, prima non ci parlava di droga, e quindi sento una battuta, se poi andiamo in overdose, speriamo di no, ovviamente. Cosa ci aspetta? Cos'è che possiamo aspettarci? Allora, attenzione al risveglio, perché il tema tassi di interesse e inflazione è importantissimo, perché c'è un rischio, un rischio importante, che una buona parte dei nostri guadagni, del nostro fatturato, delle dinamiche di crescita dei nostri fatturati, ci venga mangiato dall'inflazione. Anche perché noi facciamo i conti fatturato su fatturato all'ordo dell'inflazione, no? Quando diciamo quanto siamo cresciuti rispetto all'anno scorso, non facciamo la tara, no? Ma se, voi avete visto, su alcuni materiali i valori inflattivi non sono l'8-9% dell'inflazione media nazionale. Abbiamo avuto degli aumenti su alcuni materiali rilevantissimi. Certo, quello ha prodotto che cosa? Un aumento dei costi in acquisto, una ricarica sulla parte di vendita, aumenta il fatturato, poi vado a vedere il numero di volume, e il volume è rimasto magari lo stesso. Quindi ho aumentato il fatturato, ma ho aumentato anche i costi. Quindi ci sono tanti elementi, poi adesso non entro, queste sono poi le cose specifiche di cui parlerà sicuramente Alberto Bubbi, nel suo intervento. Però è un tema, anche questo potenzialmente uno shock. Allora, con tutti questi shock, le previsioni rimangono ancora positive? C'è chi dice di sì, qui mi spiace che non c'è la fonte, ma questa è Unicmi, Carmine Garzia, con il quale parlavo l'altro giorno, diceva sì, anche secondo me, in realtà il mercato non andrà, non crollerà di colpo. Adesso loro usciranno con le nuove previsioni verso fine novembre. Ma vedete l'andamento del prodotto interno lordo e il tasso di crescita annuale delle costruzioni per il 2022 più 10%, per il 2023 più 6,1% loro prevedono. Sono i seramentisti, per cui sono molto attenti a come va il loro mercato. E lo dicono sia nel residenziale che nel non residenziale. Cioè la crescita, soprattutto ovviamente nel residenziale, ma anche nel non residenziale. E rimane una percentuale interessante per quanto riguarda il 2023. Sempre dati però nominali, cioè all'ordo dei dati inflattivi. E qui è chiaro che la variabile inflazione, come vi ho detto, può essere uno sciocco o non esserlo. C'è invece chi dice di no. Questi sono stati presentati ieri mattina, probabilmente li avete anche già visti, però volevo fare una riflessione con voi, perché Ance, che ovviamente è sempre iperprudenziale, diciamo così, nelle sue previsioni, ma anche perché giustamente fa un ruolo associativo e quindi deve andare un po' a batter cassa. Che cosa ha messo ieri sul tavolo? Che rispetto al 2021, il 2022 è cresciuto tantissimo, guardate, manutenzione straordinaria, recupero 25% in crescita nel 2021, più 22% nel 2022, meno 24% nel 2023. Vuol dire perdita di un quarto del livello produttivo di quei 56 miliardi al quale si è arrivati. Complessivamente con un impatto sul tutto il sistema delle costruzioni che porterebbe a una frenata del meno 5,7. Questo al nesto i costi di trasferimento di proprietà, eccetera, eccetera. Allora, questa è un'indicazione a parità di condizioni. Come si dice normalmente, ceteris paribus. Cioè, stante così le cose, stante così i problemi mondiali, costi energetici, costi immateriali, eccetera, eccetera. Questo è lo scenario. Per me è un shock, perché una frenata così forte, secondo me, potrebbe essere determinata, sì, da condizioni molto negative, ma, chiaramente, noi non possiamo prevedere che alcune di queste condizioni si risolvano. non sappiamo se la guerra nucleare finirà domani mattina oppure no. Però voi vedete che appena si mettono, cioè dicono, vabbè, continuiamo la guerra, ma sulla parte energetica, anche perché qua fa caldo, gas, non lo stiamo comprando, quindi, cioè, da qualche parte, no? Abbiamo i serbatoi pieni, adesso facciamo anche il rigassificatore a piombino, per cui c'è, insomma, no, che se problemi, ok? Però siamo in Veneto, lasciatemi ogni tanto. Allora, proviamo a capire meglio, perché io leggo tanti fenomeni coerenti nella loro descrizione, però anche contraddittori in qualche modo, o che mi stimolano a qualche riflessione, a qualche domanda. Allora, è stato detto anche prima, l'effetto Covid sulla casa ha fatto sicuramente un impulso molto positivo al ripensare delle proprie case, ci aggiungiamo il, diciamo, il, l'asso di briscola del 110, anzi, il carico del 110 più l'asso di briscola che è stata l'accessione del credito, perché senza quello il 110 non sarebbe partito, sarebbe partito molto meno, ok? Ed ecco che l'accessione del credito ha aperto una voragine perché fondamentalmente siamo arrivati solo sul 110 per quanto riguarda diciamo una potenzialità che lo Stato aveva messo a bilancio intorno a poco più di 13 miliardi, siamo arrivati a più di 51 miliardi di investimenti a fine settembre. Nomismac con le sue previsioni sulle compravendite residenziali, compravendite significa compro nuovo ma compro sotto l'usato perché nuovo oggi vale 60.000 nuove abitazioni all'anno, 700, guardate, si arriva 706, 715, 738.000 compravendite, una buona parte di queste sono ristrutturazioni, compro casa e la ristrutturo, ok? meno doping sui mutui, perché? Perché guardate come si riduce negli ultimi due anni, tra il 2023 e il 2024, la quota delle surroghe rispetto al mercato precedente. Prima c'erano i nuovi mutui ma una parte diciamo non significativamente rilevante ma comunque interessante perché nel 2021 su 50 miliardi di euro 10 miliardi cioè il 20% erano surroghe, quindi non era mercato nuovo, era roba che c'era prima che è cambiata, no? Ecco, si riduce quella quota lì, quindi sono effettivamente nuovi mutui, adesso se i tassi di interesse non si alzeranno probabilmente i mutui saranno ancora convenienti, altrimenti lì c'è il rischio che lì sì ci possa essere una frenata. ma un indicatore anticipatore del mercato ad esempio è quello sui permessi di costruire qui vedete che abbiamo superato le 60 mila abitazioni all'anno nella stima 2022 fatta da noi sui dati Istat e per quanto riguarda le superfici non residenziali in numero di metri quadrati siamo volti 10 milioni ecco in crescita attenzione perché il permesso di costruire non è la casa costruita ti do il permesso c'hai tre anni di tempo per farla quindi probabilmente parto adesso con i tempi dei cantieri posso costruire anche in due giorni oddio magari non in due giorni noi siamo italiani invece ci mettiamo sei mesi però siamo veloci anche con la prefabbricazione con tutti quei sistemi là però guardate che questi numeri qui significano il mercato del prossimo anno e poi c'è questo dato qua la grande onda del recupero noi nel 2020 abbiamo raggiunto il 69% di patrimonio italiano con più di 40 anni d'età e questo non è un dato che cambia ecco questo non è un shock questo sì è una specie di pachiderma che si muove lentamente e che continua a incrementarsi e ogni anno le abitazioni diventano più vecchie di un anno un po' come noi anche se poi diventiamo più giovani perché siamo due giovani dentro giusto? e poi c'è un altro mercato che in Italia non avevamo mai conosciuto come stiamo conoscendo adesso e che dobbiamo imparare a conoscere bene perché perché in realtà se andiamo a vedere nel 2000 tra gli ultimi 20 anni il peso delle demolizioni e ricostruzioni sulla nuova costruzione è passato dall'1,3 al 25% ma è curiosa questa cosa perché questo non è nuova costruzione dal punto di vista statistico è ristrutturazione perché se io demolisco e ricostruisco ho diritto al 110 allora qua si stanno sviluppando addirittura in Veneto ma anche in altre regioni in particolare in Veneto se demolisci e ricostruisci con meccanismi ovviamente classe A eccetera eccetera antissismico ti danno il doppio della volumetria possibile poi uno si domanda abbiamo bisogno di tutti questi volumi non lo so non è quello il punto è che abbiamo tante opportunità e il mercato ha cominciato a capire e a sfruttarle non ho mai visto infatti negli ultimi anni così tanti canteri di demolizione e ricostruzione in un paese dove un metro cubo è per sempre lo dico sempre vale più un metro cubo che un diamante allora altro elemento la fiducia delle imprese nonostante questi elementi e guardate negli ultimi mesi gli ultimi mesi vedete il gennaio aprile luglio in realtà il dato questo arriva fino a settembre non si legge nella nella scalia sotto ma arriva fino a settembre guardate il crollo di agosto blocco delle blocco delle cessioni problemi di liquidità delle imprese settembre riparte la fiducia perché shock agenzia delle entrate fa il comunicato che dice vabbè la cessione del credito si può ripartire siamo in un momento nel quale però il giudizio dell'impresa a onore del vero non è così positivo sui piani di costruzione nei prossimi tre mesi cioè sta un po' scendendo dal diciamo 15-16% di positività che aveva semplicemente all'inizio dell'anno a fine dell'anno scorso siamo però comunque sopra lo zero cosa vuol dire che se io vi intervisto faccio il sondaggio come prima metà platea mi dice andrà male e metà platea mi sta dicendo andrà bene lo zero è l'equilibrio quindi attenzione perché posso il dato che vi mostrerò dopo che se va bene sicuramente se va molto bene va bene per tutti ma se va male quindi con quei dati che abbiamo visto prima molto negativi dell'ANCE non va male per tutti a mio avviso va male come diceva Noci prima per chi non è stato in grado in questi due anni di organizzarsi o non sarà in grado nel prossimo periodo ancora positivo di organizzarsi perché un altro elemento molto interessante e molto positivo è anche questo guardate dal 2014 ad oggi questo è il terzo siamo sui dati li ho aggiornati ieri sera e quindi Virginia ha dovuto aspettare le slide stamattina poi sono usciti i dati sul secondo trimestre del 2022 sulla durata media di operatività di attività delle imprese lista domanda le imprese ma quanto mercato hai ancora adesso cioè ad oggi quanto sono cioè quanto dura la tua attività sicura nel 2014 prendiamo il dato totale quella la riga verde nove mesi se viene una crisi di un anno io nove mesi reggo gli ultimi tre mesi vado in sofferenza questo significa anche che i due mesi di crisi vera del covid non hanno impattato fortemente sul settore questo è il motivo ma se andiamo a vedere oggi siamo arrivati a 14 mesi quindi significa che io ad oggi ho lavoro fino alla fine del prossimo anno ho lavoro fino alla fine del prossimo anno lavoro che devo ancora cominciare perché probabilmente ho preso la commessa forse ho mandato l'anticipo ma in realtà i lavori devo ancora farli la produzione a che punto è guardate il livello al quale siamo arrivati dal punto di vista proprio della produzione fatto 100 il 2010 fondamentalmente noi siamo ad un livello produttivo complessivo che ha avuto questa frenata negli ultimi mesi ma c'ha questa ripartenza a settembre che è un dato che è sicuramente interessante anche se avete scritto luglio sotto è il problema di Excel che il risolvere decide lui che mesi farti vedere però questi sono i dati aggiornati a settembre allora cosa accadrà adesso è qui chiaro nessuno ha la sfera magica però ci proviamo certamente c'è una riduzione dell'effetto su 110% sulle unifamiliari perché perché a fine anno a dicembre si chiude non c'è più shock però forse il governo interrerà non credo non credo però certamente è uno shock che se interpretiamo secondo me male ci potrebbe portare a dire quanto ha fatturato fino ad oggi quanto investimento ci sono stati sulle villette sul 110% 20 miliardi sul mercato di 150 miliardi che è quello che è stimato da Ance 153 20 miliardi sulle unifamiliari è tanta tanta roba giusto ma sui condomini quanto è stato l'investimento 22 miliardi ecco allora che il condominio è un soggetto da guardare per il prossimo anno perché perché i condomini ce l'hanno ancora il 110% il prossimo anno e a mio modesto avviso modestissimo avviso l'effetto di velocizzazione della spesa sulle villette guardate a settembre cosa è successo poi vi faccio vedere il numero di rendicontazione dei lavori fatti perché altrimenti non prendo il 110% devo certificare il 30% avverrà anche qui perché correranno tutti si sveglieranno tutti domani mattina che il prossimo anno deve fare i lavori sul condominio e questo sarà un drive per 2023 che io credo sarà rilevante e comunque può essere una sorta di surf che ci consente di rallentare se effettivamente dovremmo rallentare e tornare alla normalità che attenzione non è la normalità di un tempo cioè non è che rallentiamo così rallentiamo così ok quindi quei 150 saranno 160 rimarranno 150 quello che sarà ma fondamentalmente siamo arrivati ad una diciamo soglia di navigazione che sicuramente è molto positiva e poi c'è l'altro aspetto il PNRR il PNRR non è ancora partito fondamentalmente sono stati paesi pochi in realtà il Nadef evidenzia circa 5 miliardi adesso poi vi faccio vedere il dato su una spesa che doveva essere un po' più rilevante ma perché? perché abbiamo fatto progettazioni infatti chi è che è cresciuto e vedrete poi i bilanci nella pubblicazione di quest'anno negli ultimi anni tantissimo gli architetti oggi non trovi guardate noi abbiamo uno studio dove ogni tanto abbiamo bisogno di laureati in urbanistica eccetera io chiamo costantemente i miei amici ed ex colleghi dell'università e chiedo ma mi mandi qualcuno uno bravo anche uno non bravo un tirocinante uno che poi gli insegniamo e fa non ci sono perché sono tutti assorbiti dalle progettazioni eccolo là guardate la crescita mese sul mese precedente mediamente le unifamiliari passavano più 13% più 14% più 14% sul mese precedente settembre più 33% sul mese precedente questo è un dato che vi dice che in realtà noi mettiamo delle regole le applichiamo ovviamente poi siccome gli italiani siamo un po' sonnacchiosi siamo un po' poi abbiamo la pausa post-prandiale così poi a un certo punto ci svegliamo di colpi no no ma devo fare i lavori devo fare i lavori devo fare i lavori no sì ma guarda che devi devi insomma certificarli asseverarli entro il 30 di settembre e via corri 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 per se no non prendi il 110 e ci siamo arrivati ci sono arrivati in tanti chi è che ha investito di più beh insomma qua ci mettiamo come per cui il pieno verso del Veneto non il metaverso il pieno verso del Veneto siamo primi in classifica abbiamo fatto quasi due interventi su 100 ogni 100 famiglie due famiglie quasi due famiglie ad oggi hanno usato il 110 non è poco eh nel resto d'Italia siamo poco più di una famiglia su 100 ma guardate alcune regioni del sud si piazzano meglio la Lombardia lasciamo perdere la Liguria cioè lì siamo un po' con quelli che hanno i granchi in tasca appena metti no scherzo scusate amici Liguri però guardate quindi c'è un'altra novità non è vero che c'è da questo punto di vista un mercato che tira di più e un mercato che tira di meno normalmente no tira di più il nord il sud eccetera come vediamo in tanti ambiti il super bonus ha scompaginato un po' le carte in questo senso è interessante perché vuol dire che alcune regioni hanno delle potenzialità in questo momento che stanno sviluppando che il super bonus ha tirato fuori in più c'è questo elemento questa notizia di ieri con esattamente anche poi andate un po' online a guardarvi le cose sostanzialmente ci sono le banche che hanno riaperto la cessione però il vero tema ed è stato detto prima da Simonetti è l'apertura della cessione ai privati non solo alle banche cioè tutto il sistema a quel punto nel momento in cui tu hai creato moneta fiscale perché la cessione del credito ha creato moneta fiscale a questo punto perché devo cederlo solo alla banca che tra l'altro mi chiede un corrispettivo io piuttosto il corrispettivo lo do a mia zia se proprio visto che è ricchissima allora quello secondo me sarà un altro elemento positivo la possibilità certo mi sono d'accordo col bollino certificato che quel credito non mi venga contestato ok allora se arriva dal 110 sicuramente il credito non ha problemi se arriva da un bonus facciate mi farei qualche domanda e lì bisognerebbe saperlo perché sappiamo che in realtà diciamo le truffe sono state lì ma sapete cosa ha fatto anche il super bonus un'altra cosa che non sapevamo che sarebbe potuta succedere shock anche in questo caso no che abbiamo imparato a organizzarsi il 110 è difficile no è complicato no è complesso è complesso però se io analizzo tutta la filiera per arrivare poi all'agenzia delle entrate andare a certificare i miei crediti non è così difficile basta che organizzarsi e il mercato ha imparato a organizzarsi questo non è che finito il 110 questa organizzazione muore significa che abbiamo aumentato la nostra capacità organizzativa di filiera guardate che è un passaggio a mio avviso molto importante in questo settore qui e poi quel dato che vi dicevo di prima la spesa fatta è quella attesa allora sul 2022 si attendevano 29,4 miliardi di spesa sul PNRR e ne sono stati spesi ad oggi a settembre 2022 15 ne mancano 14,4 non so se verranno rendi contatti entro la fine di quest'anno ma certamente una parte si sposterà sul 2023 e in più c'è un altro aspetto che le risorse totali cioè dei 195 miliardi se volete facciamo i 235 in realtà dei 195 miliardi effettivamente di investimenti del PNRR circa la metà poco più di 100 sono legati a lavori del settore delle costruzioni cioè non sono investimenti in tecnologia o in formazione o altre cose 107 miliardi le risorse totali depuriamole dell'IVA perché qua c'è un trucco che io non ho mai vista questa cosa raccontata però questi sono tutti lavori all'ordo dell'IVA 107 miliardi all'ordo dell'IVA quindi in realtà il mercato vero è quello al netto e sono 95 miliardi per le progettazioni leviamo i soldi che vanno agli architetti agli ingegneri eccetera restano come investimenti reali circa 80 miliardi sono 20 miliardi all'anno quindi per i prossimi 4 anni c'è un tesoretto di 20 miliardi che finisce il settore anno per anno allora se cala da una parte sicuramente può salire da un'altra ma uno mi dirà vabbè ma qui serve per far ponti per far strade noi vendiamo forati come diceva Noci in realtà no perché guardate che solo il bando borghi dove ci sono un sacco di investimenti su case da ristrutturare nei borghi vale un miliardo e quello è già stato chiuso i lavori stanno partendo allora quali scenari il tema non è di dare una previsione bisognerebbe lavorare per scenari e in questo senso credo che devo concludere però abbiamo quasi finito allora a dicembre 2023 scade il super bonus però il mercato delle nuove abitazioni in crescita le compravendite sono in crescita il costo dell'energia è stato detto prima ha un effetto avuto e avrà un effetto psicologico fondamentale nell'incentivare e velocizzare questa spesa anche quello shock costo dell'energia shock perché dobbiamo pagare bollette più alte ma un altro elemento non pensavamo che le famiglie fossero così pronte a comprarsi perfino il pannellino di NLX da attaccare su quanto costano 600 euro l'uno lo attaccate sulle terrazze o davanti cioè i davanzali delle finestre e vi fate l'energia da soli guardate che è un messaggio molto profondo questo ecco allora queste sono le previsioni adesso sentirò boom ovviamente sul 2022 non è tanto boom ma questi sono i numeri non del settore delle costruzioni sono numeri per la distribuzione edile potrei dirvi anche come li calcolo questo come ho calcolato questo 7,5% semplicemente voi prendete quei 150 miliardi sottraete una parte non tutta la parte degli investimenti sulle unifamiliari perché chi ha un unifamiliare crolla il 110 cioè non c'è più il 110 ma ormai dentro questo meccanismo dice beh il 65 non è male neanche quello se c'è l'accessione del credito e guardate che la spesa media di investimento col 110% su una unifamiliare a livello nazionale sono 120 mila euro per singolo intervento ok allora io dico non potrà sparire tutto tornerà nel vecchio 65 ma c'è l'incremento abbiamo visto l'incremento dei condomini eccetera certamente questi sono valori al net scusate all'ordo dei dati inflattivi l'inflazione potrebbe mangiarsi una parte una buona parte di quel 7,5 dal punto di vista reale ok però però a mio avviso e probabilmente qua c'è da ragionare quindi anche se volete un po' una provocazione che faccio infatti non è una previsione per il settore di costruzione però io mi faccio una domanda vi ricordate quella slide che ho fatto vedere prima più 6,6% più 3,4 più 0,5 anzi meno 0,2 che dà il Fondo Monetario Internazionale sul PIL il settore delle costruzioni è cresciuto in modo diverso l'anno scorso più 21,4% ma quanto avete fatto voi in realtà nella verità e adesso andiamo a vedere questo dato e vado a concludere più 40,9% questa è la top 100 ma guardate che se andiamo ai dati della top 200 non sono tanto diversi qual è la differenza nella top 100 da quest'anno praticamente sono aziende che hanno tutte da 10 milioni in su di fatturato nella top 200 da 5 milioni in su i dati che abbiamo già a disposizione perché alcuni bilanci ancora non riusciamo ad averli dobbiamo aspettare come al solito fine novembre inizio dicembre per avere ma guardate io questa slide qui non la vedrò mai più probabilmente cioè quante imprese hanno avuto il fatturato in aumento tutte i 100 quante imprese hanno avuto il bilancio con utile 100% di imprese quanto di utile medio 5,7% ora se andiamo a vedere gli utili poi nella pubblicazione in Utrade trovate le tabelle delle singole aziende vedete che in realtà ci sono aziende che hanno fatto molto più del 5,7 ma sostanzialmente provate a pensare che un'azienda che fattura adesso non faccio nomi ovviamente ma che fattura magari intorno agli 80 100 milioni di euro ok e che fa l'8 9 10% di utile fa 10 milioni di utili tanto quanto il fatturato di ingresso nella top 100 ma li fa di utili allora torniamo al discorso dimensionale che è stato fatto prima sul quale non torno che però è rilevante e importante perché questa dinamica ci sta mostrando che il settore si sta consolidando e sta crescendo ed è molto molto interessante guardate ritorni sulle vendite positive il ROE quindi quello che a voi interessa in modo forse più agli imprenditori 16% di redditività 16% di redditività il ROE 8,7 l'asset complessivo aziendale che cresce dell'8,7 cioè il vero patrimonio aziendale allora questi numeri qua vedete ho detto siamo in Veneto oro ben on da noi si dice così no? oro ben on come va? oro ben on va molto bene guardate tutti i segmenti fatturato meno di 15 milioni di euro tra 15 e 30 tra 30 e 50 eccetera tutti siete cresciuti gli anni scorsi eravamo abituati a vedere i top che crescevano di più e poi si scendeva molto qua non si scende molto siamo intorno a cioè chi corre meno tra quelli tra la top 100 sono quelli tra 15 e 30 ma forse è quella dimensione dove in realtà dovrei fare il passo in più per diventare un po' più grande non lo so non lo so certamente se andiamo a vedere dal punto di vista anche territoriale le dinamiche io trovo anche molti elementi di riflessione in questo senso cioè mediamente le aziende del nord e del vedete del nord ovest e del nord est con ovviamente i campioni nazionali a livello regionale dell'Emilia Romagna portano a casa utili netti sul fatturato molto più elevati di quelli del sud allora qui sicuramente c'è il fatto che vediamolo in modo assettico sicuramente la capacità manageriale imprenditoriale di alcune grandi aziende che sono localizzate tipicamente al nord non solo al nord ovviamente ma pesano molto nella dinamica complessiva sicuramente può aiutare gli altri a impostare innescare meccanismi di crescita che tra l'altro il mercato chiede perché abbiamo visto i dati sul super bonus le regioni del sud alcune regioni del sud sono state ad oggi molto più reattive e vivaci della stessa Lombardia e la GDO perché qua ed è l'ultimo punto che tocco e la GDO la GDO è sempre stato un po' il vostro competitor ma anche spauracchio per certi aspetti guardate che io non guarderei tanto il dato sugli utili perché voi qua cioè vincete a man bassa rispetto alla dimensione e alle dinamiche che hanno avuto loro loro sono cresciuti fondamentalmente del 15,7% e voi riguardate insomma principianti guardate gli utili medi non guardiamo i singoli casi 2,1% principianti siete più bravi voi avete più in mano il mercato voi di loro da questo punto di vista dov'è che forse dovete andare a pesarvi e qua si vi chiedo di fare nelle vostre aziende delle riflessioni in questo senso io guardo l'ultima l'ultima colonna l'ultimo dato ok il fatturato per addetto la produttività diciamo chiamiamo la produttività calcolata così è andato un po' grezzo ma anche quello dà una dimensione no? cioè Bricoman ha l'11,6% di costi del personale sul fatturato e l'Eau Merlin 18% poi vado a vedere la produttività per addetto di l'Eau Merlin 193.000 euro per addetto Bricoman 307.000 però il campione qua è Bricoferne fa 387 io so che qualcuno di voi fa 600.000 euro per addetto non faccio nomi 600.000 euro per addetto vuol dire vuol dire essere organizzati ed è il tema che ha trattato anche Giuliano Noci che è il punto fondamentale secondo me strategico oggi che è quello della gestione dell'organizzazione della gestione cioè il recupero di redditività all'interno dell'azienda allora concludo allora quindi concludendo grappa bocchino sigillo nero no va bene va bene il vecchio Mike sempre più in alto però diceva vi ricordate andavano con l'elicottero lo portavano in cima al cervino poi lui faceva finta di essere sudato e faceva ecco allora pace l'anima sua però sempre più in alto certo sempre più in alto però allora facciamo questa ultima riflessione per ora non c'è crisi c'è un po' di rallentamento forse eccetera ma dobbiamo vedere io sono convinto adesso quel dati che abbiamo visto prima andrebbero aggiornati mese per mese noi dovremmo fare ogni adesso non è possibile Virginia muore se gli facciamo organizzare un convegno al mese e voi non verreste ogni mese però il tema sarebbe proprio questo cioè mentre un tempo facciamo le riunioni annuali davamo la prospettiva per l'anno successivo qua bisogna dire no guarda aspetta le prossime due settimane forse va così no perché shock con questi elementi che cambiano shock allora quante imprese allora la mia domanda che faccio di fronte ad una effettiva riduzione del mercato sarebbero in grado di mantenere la loro redditività attuale perché sono tutti bravi nel momento in cui il mercato da solo cresce a essere no remunerativi secondo me in un mercato che cresce meno e potrà crescere meno ma l'abbiamo visto e comunque la dinamica è in rallentamento la nostra crescita non dobbiamo cercarla fuori ma dobbiamo cercarla dentro le nostre aziende cioè dobbiamo cercare di recuperare redditività nella ottimizzazione perché io non posso pensare ci sono aziende in cui vado cioè faccio l'analisi vado a vedere e dico questo fa 150 mila euro per addetto e questo ne fa 300 mila e fanno lo stesso mestiere cosa succede perché quello fa così perché quello fa 600 mila 600 mila è a livello svedese a novembre dovrebbe uscire spero sto finendo di raccogliere i dati la classifica delle più grandi diciamo catene distributive a livello europeo dei materiali di li cioè modelli norvegesi svedesi hanno una produttiva per addetto elevatissima quindi vuol dire che si può fare allora la domanda finale con la quale vi lascio è non tanto quanto ho fatto perché noi poi andiamo a vedere i fatturati veniva detto anche prima giustamente che il fatturato è un buon indicatore no ma come l'ho fatto non chiedetevi quanto avete fatto nel 2021 quanto avete fatto nel 2000 certo dovete fare i budget ma oltre al quanto perché quello comunque rimarrà sempre io vi chiedo come lo fate questo budget come siete organizzati qui ci aiuta il sistema solare il nostro sistema solare di tutti questi elementi quelli che vi ho citato prima e vi dico l'allineamento dei pianeti capita una volta ogni 300 anni allora quando mai ci ricapita un'occasione simile per mettere le nostre aziende su una dinamica di mercato più organizzata più positiva e più diciamo fiduciosa per il futuro e per tutti noi grazie per l'attenzione grazie